Ciao ragazzi e ragazze, il 6 luglio 2020 e solo qualche ora fa si è diffusa la notizia della morte di Ennio Morricone, un pilastro della musica italiana e in realtà internazionale, che io ho avuto la fortuna di vedere in concerto 4 anni fa, soltanto 4 anni fa a Londra, mentre vivevo lì, un'esperienza meravigliosa, per cui ancora oggi sono grata a chi ci ha portato a viverla. Ennio Morricone aveva 91 anni, ci si può aspettare che una persona a 91 anni di punto in bianco possa lasciare questa terra e passare a miglior vita, se si può dire migliore non lo saprà nessuno, però il mondo è sgomento, il mondo è rimasto colpitissimo da questa notizia, tra l'altro in un 2020 ricco purtroppo di decessi, diciamo di eccellenza, ecco di persone di grande valore culturale e anche personaggi storici, come potremmo dire essere Morricone, purtroppo che sono venute a mancare. Aveva 91 anni e quindi forse potevamo aspettarci che questo potesse succedere, eppure il mondo è sgomento. Perché il mondo è sgomento? Perché Ennio Morricone lascia un'eredità, quell'eredità che dovremmo preoccuparci anche noi con il nostro lavoro quotidiano, di provare, se non altro, a lasciare in questo mondo. Non lasciare un'eredità si fa in un modo molto semplice, guardando il breve periodo e non investendo nel lungo, soprattutto non seguendo quelle che sono le nostre vere vocazioni, sono due cose fondamentali per arrivarci. Magari non diventeremo Morricone, ma alla fine, a 90 anni, o forse anche di più speriamo, avremo capito che la nostra vita avrà avuto un senso. Mi raccomando, non dimentichiamo l'eredità. Stop whining. Mi raccomando, non dimentichiamo l'eredità.